Ciao ragazze, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo make up tutorial, questo è un make up molto strong che ho provato lì per lì, vi faccio vedere anche la mia conciatura di oggi, io vi lascio subitissimo al tutorial, fatemi sapere se questo video vi piace, quindi pollici in su, iscrivetevi al canale e lasciate un commentino come sempre perché mi fa davvero davvero piacere e ovviamente seguitemi anche nei miei altri social, quindi Instagram, Facebook e adesso anche Snapchat, giù nell'info box comunque trovate tutte le informazioni necessarie Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!